Parti! Al quarto scivola Free Destination in giubba bianca con la stella rosa, poi My Lynx, Zaktova, Clever Band, più arretrati insieme a Kailash in giubba verde col Keb Blue. Morvan Quiet assicura la corsa a un ritmo quantomeno dignitoso, Epic in seconda, al terzo Sword Lune, leggermente più arretrata Free Destination che avvicina Kailash, poi ancora Zaktova, più dietro Lichis insieme a Clever Band, al largo invece rimane My Lynx. Queste le posizioni con il gruppo che tende a ricompattarsi sulla piegata finale, in vantaggio rimane sempre Morvan Quiet ma al suo interno si concchettizzano Epic e poi ancora Free Destination, curva molto larga invece Sword Lune, poi ancora Clever Band, Lichis, My Lynx, Kailash che scivola in coda, Epic che insiste su Free Destination, Sword Lune e Zaktova che si avvicinano, Clever Band per via interna e poi Lichis e ancora più largo My Lynx, Zaktova che a centro pista attacca e passa su Epic e allunga, Clever Band che prova a finire bene, poi ancora Sword Lune, Lichis e My Lynx, Zaktova in fuga rispetto al resto della compagnia, Clever Band che prova ad andare a riprenderla, gli altri più arretrati nell'ultimo tratto, Zaktova è nettamente in evidenza, Zaktova, la Dormegliana che risolve assolutamente chiara e lotta solo per la piazza e con Zaktova che completa il suo successo, mentre Clever Band ha ragione per la seconda moneta di Epic. Vittoria quindi per Zaktova, Antonio Fresu per la Dormello Oggiata, il signor Discepolo al treno. Grazie.